Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un altro video di Let's Play Italiani Yeay! Finalmente ci sono continuato a fare i video Ho riniziato Sono sempre io, Let's Play Italiani e sono insieme a... Ciao a tutti ragazzi, sono... ...intermo te... The number? 5.000 Ecco Video, 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 che bello il video, che bello il video Allora, faremo i video di Terraria, Nostallo, Minecraft, decidiamo Anche di The Sims Medial potrei farlo un giorno Una recensione Eh, vabbè, ambarabaccicicoco, Minecraft Non c'è niente da fare, Minecraft o io? Vi farò vedere un po' il nostro accampamento ribelle No, 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 warrior, scusate Dai ribelli, ai warrior, forza warrior Allora, siamo io Io, Temerdone98 e Termoteo che facciamo i video insieme Ci siamo conosciuti sempre su Minecraft Ma va, Minecraft raggiunge anche le amicizie Ok? Lagga un pochino a chi ci sta generando il mondo Sì, lagga già di vino Allora, vi farò vedere un pochino come vanno le cose con giro Allora, un po' più caso a casa mia ragazzi perché è ancora in fase di avvio Sì, è ancora in fase di avvio e il mio gioco è cresciato No, è cresciato Il boss Ti è cresciato? No, da niente Allora, qua ci sono le ciasi di tutti che non si possono dire che sono private Questo è il nostro merda, diciamo, dove fanno le cani da zucchero Guardate un pochino che cosa ho io però C'è un dungeon C'è un dungeon C'è un dungeon nelle miniere che non ha esplorato Guardate che cosa ho io ragazzi L'ho rotto quanto gente, quanto gente, quanto gente Adesso mi uccidono Mi uccidono No, l'ho ucciso Sì Oh, cazzo, non si carica Eh, non mi dico che ho perso tutto Guardate che cosa ho io Ma lo... Buah! 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 Sì! Guardate come è bello, ho fatto quel carbone e quel ferro Buah! Buah! Pezzi di merda, ho perso tutto Ma lo fa Ma... No E questa... Questo coglione dell'admin Guardatelo Non... Ah, non c'è anche il ligno Ok, andiamo a prendere diamante a tutto spiano Perché anche il mio amichetto ha l'X-ray Perché è uscito? Cosa? Sì, ha uscito da un bel po' Tu che? Ma certo, guarda, chi c'è? Oh, cazzo Via, 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 via Ho iniziato l'operazione caccia al diamante Caccia al diamante Caccia al diamante Che non ci vuole niente con l'X-ray Purtroppo hanno messo qualche trappola molto evitabile Tipi a... No, cazzo! È vero Però c'è un problema Se metti il video su YouTube Sì, minchia Che fa? Aspetta che mi tipo Tipi a... Ok, termotipami Così andiamo insieme Sono due minuti di video ragazzi Sì, ma che euforia Andiamo Il mio piccone freme Guardate come freme il mio piccone Sì Goda anche il piccone, guarda Guardate come gode il piccone Gode e freme Sì Via via Siamo nella caverna Ora riforniamo tutto Allora X-ray Let's go Accendiamola Accendiamo la visione notturna Accendiamo la visione notturna Diamante sotto le me Let's go for X-ray Ok, scaviamo la visione notturna E' quel diamante lenio? E' quel diamante lenio? E' l'ho visto Prendo anche del ferro Già che ci sono E' che è finito che quel diamante Si, non prende i diamanti singoli che sono trappole E' tanto se non c'è E' guarda che se lo prendi ti banno automaticamente Il brutto Nera Non lo prendiamo quando Che cazzo è che mi sta sparando? Qui sono notturna Via Diamante Ecco Insieme a bell'oro E' un altro diamante Quindi via Ragazzi vi apparirà incerto che io Oddio il mondo si stava salvando Ecco Si stava caricando il mondo Ok ragazzi abbiamo avuto un problema di connessioni e tramoteon Infatti è cresciato Se proprio da internet è cresciato e mi fò su diamante Non è che ci vuole tanto Sono bobbastardo Purtroppo sul programma che uso io per registrare Ecco Purtroppo sul programma che uso io per registrare E non posso metterli in posa Che sennò avrei preso il diamante e avrei preso tutto O oro Vabbè Comunque questo server è stupendo Se volete li pivolo o no Vabbè lo metterò in discoteca sto dicendo In discussione ovviamente E si ritroverà senza neanche oro Vabbè Andiamo di Train Un secondo che tramoteon è ancora più entrato Beh ragazzi la nostra caccia pazza del diamante continuerà Ora entra sempre X-Ray I love you Direttore siamo scesi così in basso che il diamante ci fu una pippa da qua Cioè lo guardiamo noi dal basso verso l'alto Lo diamante Il sole tramonta Che peccato Purtroppo quella bedrock che cazzo lo vedo tantissimo Ecco quella attaccata proprio Stavolta è proprio cresciata la Ah perché giusto aveva la mamma che è andata ai colloqui nella scuola E mi sa che ha preso i schiaffi Dice The number 5000 che è prendo gli schiaffi Un ragazzo così educato Si deve rovinare a tali La staglia Dicono tutti quanti la stessa cosa Tutti i professori gli schiaffi Potrebbe fare tantissime cose Intelligentissimo Però non si impegna Beh Sarebbe... Per le proeste si saranno tutti intelligenti Vabbè Vabbè ringrazio tutti quelli che seguono i video di Minecraft Vediamo Vabbè, continuiamo a raccogliere un po' di ferro La prossima volta mi vedrete In una bella caccia Anzi no, vedete la mia bella casetta La casucola di pietra Vi ricordate? Mi fa male la gola, non posso urlare È una cosa bruttissima non poter urlare Per uno come me che urla in continuazione Poi ho una mania di protagonismo Che cazzo mi viene? Allora, prendiamo sto ferro di me Una delle frasi celebri Ora, mi sa che se c'era l'admin Mi spaccavo il culo Mi è piaciuto scritto Suzuki Nakamoto Ha preso l'oro Ha preso il diamante, ha preso il ferro Quindi mi sa che ero fottuto alla grande Piggiamo il diamante qui Prima ne avevo 64 e sono morto Guardate tutta la roba, muori Che c'è da fare? Soprano su Minecraft Mettiamo il ferro a cuocere Come al solito L'unica cosa brutta è Allora, le fornacce sono protette Però le puoi aprire Mentre uno cuoce le puoi aprire Quindi in poche parole Le puoi aprire nel punto più bello Io non so quanta roba Mi sono fottuta di termoteo Che è da perdone Vi saluto, ciao Non è che se la passano malacce Stronzi Questa casa in mezzo a sto Mezzo ferro grezzo È di OneShot Che vi farò conoscere nel prossimo video Perché mi sa che non si connetterà Infatti Sono già passati 8 minuti Altri 3 minuti I miei video sono sempre I miei 10 minuti Quindi mi sa che Non si connetterà in 2 minuti Perché era anche con me Controlliamo casa sua Guardate come è bellina Finisce Ok andiamo via L'unica cosa che mi piace a me È quella Quella Non ci sia da fare Purtroppo non riesco a fare video di Call of Duty Perché con la videocamera Ci mette 4 ore per caricare il video Io non posso tenerlo Ah giusto Il bastardo Gli sono portati Vabbè Dopo io Mi rifiudo il muro Oppure no Vabbè 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 Che strozzo Non sa che se no si incazza Guarda Merdone Sì Ho rotto casa tua Casa sua è un po' la merda Cioè è un po' la merda Perché ha visto la sabbia Putta Oh Kimera Killer Lo vedete quello Il ciccio bello È un hacker del cazzo Poi hacker del cazzo Sono in chiunque Però non sono del cazzo Non so perché Vabbè Gli ho fatto un tappetino in sabbia Dai Non si deve lamentare E poi Casa mia non esiste Però posso farvi dire La casa del Bastardone Di Termoteo Termoteo è chiamato Bastardone Sì In Falbert è un coglione Sì in Falbert è chiamato coglione Infatti lo sanno tutti Sto scherzando Se stai guardando questo video Sto scherzando Ti ho detto Raga Iscrivetevi al canale Vi piaceva di sicuro Sono nove minuti e trenta Cioè io non ho visto il cronometro Cioè in questo momento ho detto Ragazzi iscrivetevi al canale Perché sono passati Ho andato Sono andato a vedere Nove minuti Ok Sono il boss Allora Purtroppo mi lagga Per quando faccio il video Sia con Fraps Che con The Boot Video Capture Però mi trovo di più Con questo qua Quindi Casa sua è un po' una merda Cioè ecco qua Quella è casa sua Sembra che ha le tombe in casa Vabbè Il video finisce così Guardate le mie skin Com'è figa È un creeper lavoso Incenerito Perché è un figo Vabbè ragazzi Ci vediamo al prossimo video Quando faremo qualche stronzata Non mi ricordo cosa avevo detto Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video